In coscienza, ma soprattutto la mancanza di controlli alla base del peggioramento dell'inquinamento dei canali Sant'Omasi e del rio Sguazzatorio. Nuove preoccupanti denunce arrivano via social e danno l'esatta proporzione del disastro ambientale che continua a perpetrarsi in questi due corsi d'acqua che affluiscono poi nel fiume Sarno. Nei pressi discafati qualche giorno fa è stato notato che il Sant'Omaso e il canale Mariconta, affluenti del Sarno, avevano nuovamente assunto la colorazione rossa. Dai corsi d'acqua vengono emessi anche insopportabili miasmi che in più occasioni hanno mobilitato i residenti di via Cappelle Ascafati e quelli di Angli in via Palmentello. Difficile risalire alla fonte dell'inquinamento. A pochi chilometri di distanza in via Guglielmo Marconi, conosciuta anche come località Ciampa di Cavallo, nelle periferie tra San Marzano ed Angri, una nuova emergenza è stata nuovamente portata alla luce dai militanti dei 5 Stelle, denunciata, anche questa a mezzo social, dai residenti e riguarda altri due affluenti del Sarno, la Cavaiola e lo Sguazzatorio. Nei pressi del ponte di via Marconi un enorme tappo di rifiuti, prevalentemente in materiale plastico, ostruisce il corso d'acqua. Da diversi mesi questo pericolo ambientale è stato segnalato dai cittadini, ma anche dall'amministrazione comunale di Angli, un pericolo che poi origina anche i temuti e frequenti allagamenti in località Orta Longa. Pare che la situazione di stallo sia essenzialmente dovuta ad un conflitto di competenze per la polizia del canale.